ciao belle gente benvenuti in canali sono amale oggi vi porto a fare un diretto con me al lidl infatti ho deciso di farvi un video corto per gli articoli che ci sono al lidl ci sono da varie cosette molto carine e alcune cose no però ci sono delle cosette molto carine ad esempio c'è la vaporella a 25 euro io ce l'avevo ma si è attappata con il calcare c'è questo stendino regolabile però 28 euro mi sembra un po tanto ditemi voi se per voi è tanto ci sono articoli per gli animaletti e c'è un specie di amaca per i gatti che mi è piaciuta tantissimo queste quali il zainetto la borsa che deve mettere i premi e questa qua l'amaca che vi dico è molto carina per i gatti da prendere molto molto carina per pettinare i caniolini tanti pettini tutto a 4 euro ci sono le cannucce di ferro di ferro spero d'acciaio minimo non ho letto sinceramente ci sono queste ceste che pensavo che si poteva mettere una sopra l'altra però no sono carini per ordinare gli articoli a casa 4 euro per fare il piccolo velo a casa la macchina con la pasta la macchina sotto vuoto avete 5 euro va bene anche il prezzo per rinaggio padelle ventole per spalmare i mulini per il sale il pepe per frittolare la cipolla le padelle per fare la paella godete con me il mantra di energia positiva a casa faccio questo aglio la macchinetta per cucire 150 euro bello questo spacchietto però 15 euro ma sempre per tanto ci sono lì in su una cotone la stuola lente di ingrandimento c'è di tutto di più ci sono vari articoli ovviamente c'è anche la parte ci sono questa la cosmetica che c'è questo olio essenziale o olio di rosmarino e olio di acqua di rose che è molto interessante io invece compro questo ogni volta che vengo per pulire il bagno con l'aceto d'aceto per pulire casa e ho trovato anche questo qua per sbiancare io uso la corsa ginata e voilà belle gente se vi piace questo video se vi piacciono i miei video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità in frattempo faccio carico i primietti per la mia bimba per Cali e ho trovato a Lidl che vendono la cioccolata vegana è 1,69 euro bella gente buona giornata a tutti ciao ciao